Fischiato in bocca per Diop, l'arbitro dà il via a questo match. Empoli-Juventus, Under-19. Buona partita. Pagnucco. Riceve palla. Mette il cross in mezzo. Tenta di chiudere dall'altra parte Turco. Non arriva per poco, ma è una Juve che propone gioco. Ha già fischiato l'arbitro. Va Diego Ripani sopra la barriera. Palla che scende, ma non ha sufficienza. Cercato di mettere i brividi a Seghetti. Qua Ripani. Un sguardo verso l'area per Ripani. Che gioca all'indietro. Un buon pallone può andare col sinistro. Scenza! Ha tentato una conclusione velenosa. Una delle sue. Palla lato non di molto. Gai di prima. Sodero. Buona azione dell'Empoli. Corona dentro per Sodero. Davanti a Wienerczyk, che la blocca. Ottima copertura del primo palo per Jakub Wienerczyk. Il suo lancio un po' sbilenco. È comunque buono per Nabian. Tacco verso Corona. Opportunità Corona! Un po' di egoismo qui per il numero nove. Sfrutta il movimento di Pagnucco. Va via. Finocchiaro. Al limite. Prova a metterla in mezzo! Arriva il vantaggio della Juve. Ma è tutto fermo. Fuori gioco. Addomesticato da Scienza. Primo dribbling. Cross in mezzo di Scienza. Palla insidiosa. Esce bene, però Seghetti finisce. Il primo tempo 0-0 tra Empoli e Juventus. Da sfruttare questa palla inattiva. Scienza in mezzo. Col sinistro. Palla che arriva. Salvataggio sulla linea. Pagnucco di prima. Fino chiaro. Vede la porta. Torna da Pagnucco. Grande idea. Ancora Juve con Pugno. Ottima azione. Manca il colpo finale. Squadra un po' lunghe ora. Kazmarski tenta il lancio verso Nabian. È scattato. Grande velocità per Nabian fino in fondo. Apre troppo. Errore di Nabian. Juve sbilanciata nella metà campo avversaria. Nabian. Grazie ai bianconeri. Elbiache traiettoria. Lunga Vinarcik male. Il pallone scivola in porta. Uscita sbagliata del portiere slovacco. Gol dell'Empoli. Elbiache su punizione. Per Pagnucco. Posizione giudicata regolare. Cross in mezzo. Grosso. L'arpiona la lascia adesso a Valdesgana. Prova col destro numero 25. Smanaccia sopra la traversa. Seghetti. La Juve ancora viva. Crappistola. Fa girare col sinistro. Non esce il portiere. Deviazione aerea. Palla alta di poco. Tentativo di Turco. Scade il recupero. Cala il sipario. Finisce così. 1-0. Empoli che batte la Juventus. Under 19. Decide un gol di Elbiache. Al minuto 80. Su un errore di Vinarcik. L'abbraccio tra Montero e Birindelli. Grazie. 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 Grazie.